Campionato nazionale di serie C maschile, torna in campo il tennis club sciacca Tulone Olio, che esordirà domenica in trasferta sui campi in terra rossa del tennis club Palermo 3. Per il sodalizio saccense, l'esordio casalingo è invece previsto per domenica 25 febbraio contro il Planet Tennis Canicattì. Fanno parte del girone 1 pure il CT Trapani, il CT Palermo A e il Sunshine Team di Marsala. La squadra del tennis club sciacca è composta dal maestro saccense Domenico Caracappa, Cristian Fanara, Mattia Ianni, Gabriele Dolce, Diogo Cruz, Davi Cruz, Gilbert Soares Clier, ma anche dallo svedese Karl Friberg, dal cieco Dominic Recek, dal greco Michaelis Sacheldaridis, dallo spagnolo Manuel Murillon Salvo e dal croato Domagoj Bliesco. I dettagli nelle interviste al presidente del sodalizio saccense Enzo Squafani e al capitano Enzo Colletti. Gli obiettivi sono sempre, come una società, otto anni che abbiamo iniziato, gli obiettivi sono sempre quelli di fare il massimo. Il massimo, come tutti gli anni, abbiamo sempre fatto. A due anni consecutivi che siamo sempre arrivati alla finale, la scorsa abbiamo preso la finale alla Final Four. Quest'anno metteremo il più possibile per fare il salto di qualità. Speriamo che vada tutto bene. Domenica c'è l'esordio, la prima partita. Sarà un impegno importante? Sì, le partite sono tutti impegni. Sono tutti partite da giocare. Sulla carta siamo leggermente favoriti, però vediamo cosa succede domenica. In generale che girone è stato sorteggiato? Il girone è abbondabile, sulla carta sempre, però le partite vanno sempre giocate settimanalmente. Per chi non sapesse come funziona questo torneo, dopo la prima fase di questo girone, cosa accade? Dopo la prima fase di questo girone, se ti qualifichi i primi, primo posto, vai a fare solo la finale regionale e poi ci sarà una Final Four, chi passa nei primi due della Final Four, vanno a fare la fase nazionale, che è una partita andata e ritorno, per andare al campionato nazionale. Già lo scorso anno voi avete sfiorato un obiettivo importante. No, nello scorso abbiamo sfiorato la Final Four. Cosa è mancato? Cosa avete imparato da quell'esperienza? Sono dei giocatori, giustamente noi abbiamo dei giocatori fortissimi che giocano a livello internazionale, fanno dei challenger, fanno ITF, giocatori che arrivano in finale, non è impossibile che poi ti dicano che venga a giocare la finale del campionato di Serie C. Però quest'anno abbiamo un organico un pochettino più ampio, speriamo di non fallire. Puntate anche sui vostri ragazzi, su tanti giovani siciliani? Assolutamente, abbiamo una crescita impressionante di bambini, abbiamo già due o tre ragazzini che abbiamo visionato, i nostri Ander non sono di Sciacca, ma sono come sarebbero figli di Sciacca, sono di qua vicino e puntiamo su di loro, giustamente una società punta sempre sui giovani. La squadra è sulla base dell'anno precedente, è una squadra giovane, con l'innesto di qualche straniero o quando serve. abbiamo la presenza dei nostri due Ander, abbiamo il ritorno di Mattia Ianni, che gioca sempre come Ander, e poi Gabriele Dolce, è una squadra giovane, con la conferma sempre del nostro maestro Domenico Caracappa. Nelle partite clou ricorriamo allo straniero, che ci può dare un aiuto tecnico e qualcosa in più. In generale state puntando molto anche sugli Ander e sulle attività giovanili? Sì, la federazione ti impone due squadre Ander, con l'iscrizione della squadra di Serie C, abbiamo un Ander 12 e un Ander 14, e soprattutto stanno promettendo bene i ragazzi dell'Ander 14. Insomma, la squadra Tennis sta andando bene, siamo felici. Per chi volesse avvicinarsi a questa disciplina sportiva, come può fare? Quali sono le caratteristiche che richiede questo sport? I bambini possono iniziare già a fare scuola Tennis dai 5 anni, con l'inserimento. Da 6 già possono fare la scuola Tennis e seguire un corso 2 o 3 volte a settimana. E poi c'è la possibilità anche per gente un po' adulta che possiamo fare anche corsi per adulti. Il nostro maestro è Domenico Caracappa. Facciamo questo campionato con un obiettivo di crescita per la società e la città stessa. Comunque voi a lungo termine puntate sull'agonismo, insomma l'obiettivo finale dei ragazzi è quello dell'agonismo. Sì, la scuola Tennis è nostra, nasce per quello. Sviluppare il ragazzo per poterlo inserire nella prima squadra. Se non siamo capaci di dargli una motivazione ai ragazzi, vuol dire che poi la società non funziona. La scuola Tennis si interrompe a un'età dove serve che il ragazzo fa la scelta. Obiettivi per questo campionato di Serie C? Quali sono gli auspici? Come dice il Presidente, che è una persona molto motivata, motivata e gli obiettivi sono i soliti. Play-off sicuramente, puntiamo ai play-off. Abbiamo un organico sicuramente, non possiamo dire che non abbiamo un organico da play-off. L'anno scorso siamo andati vicinissimo a salto di categoria. Quest'anno ci riproviamo. L'organico è giusto, ma anche le altre squadre sono cresciute. E quindi, ma noi siamo lì.